Stando agli esperti, il picco dell'epidemia influenzale dovrebbe arrivare verso la metà del mese di febbraio. In previsione di ciò, l'assessore regionale alla salute Sonia Viale ha voluto sensibilizzare la popolazione rendendo note alcune raccomandazioni diffuse da ARS Liguria, che ha realizzato un focus sintetico sul virus. Gli esperti di ARS sottolineano che l'influenza è una malattia infettiva che normalmente si risolve in 5-6 giorni con un'incubazione di circa 2 giorni, durante i quali si sviluppa la contagiosità, che si prolunga poi per 3-5 giorni. Per contrastare la trasmissione del virus, può essere utile lavarsi frequentemente le mani. Per quanto concerne la cura, si sconsiglia il ricorso ad antibiotici. I farmaci consigliati sono invece quelli di tipo sintomatico, gli antifebbrili come il paracetamolo o gli antinfiammatori. Buon apporto di liquidi e riposo in un luogo caldo e asciutto favoriscono la guarigione. In caso di complicanze, febbre elevata, gravi difficoltà respiratorie e in soggetti affetti da gravi patologie croniche, è necessario rivolgersi al proprio medico curante. È del tutto sconsigliato invece recarsi al pronto soccorso se non ve ne è assoluta necessità e comunque non prima del consulto con il proprio medico.